Buonasera amici di Giuseppe, oggi io e il mio papagallo Tetti dimoriamo a presentare di nuovo il mio amico Macellano, adesso ve lo chiamo, Torgino, Torgino, buonasera a tutti, avete riconosciuto che sono sempre io, il dolcino con le farmacie loro qua sotto, oggi ne ho combinato una grossa, arriva una signora e mi fa, senti un po', ma ce l'hai le palle? Dico, eh sì signora che ce l'ho, c'era sì le palle, e che mi hai preso per proggio? Dice ne voglio due, e io dico, eh, e due ce l'ho, poi dice, eh signora dice, eh vabbè allora tirale fuori, fammi vedere, te lo dico e che le faccio qua davanti a tutti, e poi prima, ah 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 che immagino ragazzi, boh, boh me ne vado, torno a lavorare, se no il padrone si incassa ciao a tutti, arrivederci, besalustro chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria chi mangia una volta, chi tira il terzaio, chi vuole l'aumento chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi passa sotto un treno chi ha malattia, chi va a portafia, chi trova scontato